Buongiorno, sono Sergio Balordi, agente generale di Generali a Pavia. Oggi mi sono accorto che la mia attività non poteva più basarsi sull'improvvisazione, quindi a un certo punto ho pensato di dovermi riorganizzare e attraverso Sistema Pro con Alessio Brusemini sono riuscito a riqualificare la mia attività con un lavoro di pianificazione, quindi ritengo che sia indispensabile oggi per poter avere risultati nel campo professionale e imprenditoriale, pianificare nel modo più dettagliato le attività con processi e per questo con Alessio Brusemini sono riuscito a portare a termine una serie di attività importanti con dei risultati anche importanti. Consiglio a chi posso consigliare questa cosa, a tutti gli imprenditori perché non ci possiamo permettere di improvvisare e di conseguenza avere un coach che ti possa guidare nella pianificazione è fondamentale.